Antonio Mellusi, figura poliedrica di poeta, avvocato, novellatore, storico e parlamentare, è una delle grandi personalità legate al sannio. Nacque a Torrecuso il 25 novembre 1847 da una famiglia dell'aristocrazia locale. Suo padre, Giuseppe, e sua madre, Angelica, appartenevano ai nobili Rivellini 1. Fin da giovane, Antonio seguì da vicino le vicende storiche che segnarono la storia d'Italia. A soli 13 anni, nel 1860, fu testimone entusiasta dell'annessione di Benevento, roccaforte pontificia, allo Stato Unitario. Successivamente, partecipò alla Terza Guerra d'Indipendenza come volontario con i Garibaldini 1. La sua vasta cultura lo portò a dedicarsi agli studi storici e letterari, senza trascurare l'attività politica. Fu eletto per la prima volta in Parlamento nel 1886 come membro del Partito Repubblicano, di ispirazione mazziniana. Mellusi era uno strenuo difensore dell'unità nazionale e votò a favore della Guerra d'Eritrea 1. Nel 1909, fu nominato primo direttore dell'Archivio Storico Provinciale di Benevento e nel 1914 fondò la rivista storica del Sannio. Durante quegli anni, la sua produzione poetica e letteraria fiorì. Pur essendo repubblicano, Mellusi era profondamente credente e cattolico, attratto soprattutto dalla religiosità francescana. Non volle mai far parte della massoneria e si dedicò a opere di carità, difendendo gratuitamente i bisognosi in tribunale. Con la nascita dell'ideologia fascista nel 1919, abbandonò il repubblicanesimo per abbracciare questa nuova dottrina politica. Vedeva nel fascismo il completamento del risorgimento e il rafforzamento dello Stato nazionale. Nel 1925, fu autore della targa celebrativa che conferì a Benito Mussolini la cittadinanza onoraria di Benevento. Antonio Mellusi morì il 4 ottobre 1925, giorno di San Francesco d'Assisi, a cui era molto devoto, all'età di 78 anni 1. Tra le sue opere, il più considerevole è l'origine della provincia di Benevento 1911 pergamena arrotolata. Grazie a tutti.